Tirare fuori, creare, tirar fuori delle idee e soprattutto organizzare, sapere organizzare, sapere mettere le mani laddove è doloroso per poi trovare risorse. La scelta è intelligente per il tuo business e anche per il mio. Sono notati di innovativi sistemi di cottura e non producono fumi e cattivi odori. Cucina all'aria aperta come un vero chef. Scopri tutta la gamma su Campingas.com L'avanguardia è tecnologia. Connectivity Pack con audio streaming Bluetooth e Audi Music Interface. Marissimo, ti faccio le macchine. Mi piacerebbe tantissimo Enrico. Marsi di questo, grande artista, te l'agio le cose. Sarebbe grande e molto carina. Io volevo dire che tanto tutto il tempo, Francesco, fai il duro qui quando lo vedete. Fai una zia, mi piaceva per tutto il film, abbracciato Maria, sembrava caramba. Non riusciva a mollarla. Io dovevo andare a recuperare le mie chiavi e lui attaccava la mia. Quando noi apriamo il nostro rubinetto abbiamo dell'acqua che è pulita. Ecco, allo stesso modo, quando noi abbiamo una connessione all'internet, dobbiamo avere la garanzia, la certezza che... a soffermere la piccola miglioria che abbiamo introdotto con la speranza che poi nel decreto eventualmente dopo qualcun altro ci pensi. Allora, facciamo il contrario, approvate l'articolo sulla riforma della pubblica amministrazione. La prima signora che abbiamo ascoltato diceva, noi soffriamo con i figli, i figli soffrono con noi. Saluto intanto Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. Carla, Carla Manzotti. Ecco Susanna, è sempre carcere, dicevano le donne che abbiamo ascoltato, però l'ICAM è un grosso passo avanti rispetto al reparto del carcere. Però, come vediamo, in parte è una legge inattuata. Quanti sono oggi i bambini in carcere? Ma oggi sono una trentina, sono meno di quanto sono stati per tanti anni, che si aggiravano attorno alle 60, 50 unità, insomma oscillavano. La legge del 2020...